Che cos'è un test del virus dell'immunodeficienza umana e del test dell'immunosorbente legato all'enzima? Saggio immunoassorbente legato all'enzima è un acronimo per il saggio immunoassorbente legato all'enzima. Il test del virus dell'immunodeficienza umana e del saggio di immunoassorbimento legato all'enzima è solo uno dei tipi di test del saggio di immunoassorbimento enzimatico ampiamente utilizzato nella comunità scientifica. Il test del virus dell'immunodeficienza umana e del saggio di immunoassorbimento legato all'enzima era uno degli strumenti diagnostici originali utilizzati per il virus dell'immunodeficienza umana e la sindrome da immunodeficienza acquisita. Un test del saggio di immunoassorbimento legato all'enzima è un test utilizzato per determinare se ci sono anticorpi o antigeni nel corpo. Quando si esegue un test del virus dell'immunodeficienza umana con saggio di immunoassorbimento legato all'enzima, viene preparato uno scivolo speciale contenente antigeni del virus dell'immunodeficienza umana. Il siero della persona che ha ricevuto il test viene applicato alla diapositiva. Se la persona è positiva per il virus dell'immunodeficienza umana, i suoi fluidi corporei conterranno anticorpi per la malattia. Questi anticorpi si legheranno agli antigeni. Dopo questo processo, il vetrino viene lavato in una soluzione che rimuove tutto tranne l'antigene e tutto ciò che è legato all'antigene. Quindi un enzima viene applicato al vetrino, che crea una reazione chimica. La reazione chimica farà cambiare il colore del campione se ci sono anticorpi attaccati all'antigene. Pertanto, un cambiamento nel colore della diapositiva indica un test del virus dell'immunodeficienza umana con saggio di immunoassorbimento positivo legato all'enzima. Il test immunoassorbente legato all'enzima è ampiamente utilizzato anche per altri tipi di diagnostica. Il fatto che la procedura possa testare non solo gli anticorpi ma anche gli antigeni lo rende uno strumento versatile per gli scienziati. Un altro uso per il test del saggio di immunoassorbimento legato all'enzima è nella diagnosi del virus del Nilo occidentale. Test di immunoassorbimento enzimatico non sono esenti da controversie. Mentre alcuni tipi di test sono definitivi, i test di immunoassorbimento enzimatico che vengono utilizzati per screening di farmaci preimpiego sono un esempio della controversia che circonda il test immunoenzimatico legato all'enzima. È importante che prima di eseguire i test, il laboratorio abbia stabilito i numeri per quello che considerano un test positivo e per quello che considerano un test negativo. Questo aiuta a ridurre il numero di falsi positivi. Anche con i suoi difetti, il test del saggio di immunoassorbimento legato all'enzima è un prezioso strumento diagnostico. È abbastanza efficace e affidabile da essere utilizzato di routine per risultati rapidi e curati durante i test per le malattie a trasmissione ematica, le allergie alimentari e la presenza di droghe nel sistema. Le alternative al dosaggio dell'immunosorbente legato all'enzima sono spesso più complicate e costose e richiede più tempo per ottenere risultati accurati. Per questi motivi, il test di immunoassorbimento enzimatico è ampiamente utilizzato e accettato nella comunità medica.